Io ho un bilancio della mattina di ieri molto positivo. Il Presidente ha usato parole vere per la nostra città, era rimasto già colpito ad agosto nella visita privata dei napoletani e della città. Conoscendola per alcuni giorni è riuscito ad entrarne nella sua intimità e profondità. Quindi non è stato né retorico, né superficiale, né di maniera. Per questo lo ringrazio molto, perché Napoli oggi aveva bisogno di una parola di verità così alta su quella che è la radice fondante del nostro popolo e della nostra terra, la cultura, la bellezza, la forza e il coraggio. E nel fatto di rivolgersi ai giovani e dire sarete voi i protagonisti della sconfitta e della camorra e l'esortazione ad essere uniti, ognuno faccia la sua parte, è una terra di difficoltà e di sofferenze attraversata anche oggi in questi giorni da recrudescenze criminali e con un poliziotto che lotta tra la vita e la morte. Io credo che questo sia stato un segnale molto forte. Ecco, oggi ci sentiamo sicuramente da un punto di vista di vertice di Stato meno isolati.